Un classico dell'estate sono i fuochi accesi in spiaggia durante la sera per asciugarsi o farsi una cantata in compagnia. Ogni momento dell'anno, tuttavia, potrebbe essere quello buono per una rimpatriata tra amici e un incontro romantico intorno ad una bella fiamma accesa e arriva al mare. E probabilmente è quello che è successo la notte scorsa nella spiaggia sottostante il faro di Pesaro. Peccato che in base alle ordinanze balneari messe dalla Capitaneria di Porto e dall'amministrazione locale, i falò siano vietati nel capoluogo. La norma vigente ha come obiettivo quello di evitare il rischio, come invece accaduto ieri sera, di far alimentare il rugo con il trascorrere del tempo. Ma grazie all'intervento del personale della Guardia Costiera che all'alba ha eseguito un pattugliamento a bordo di una moto vedetta, si è potuto scongiurare il peggio. Erano circa le 5.30 quando i militari hanno contattato la sala operativa segnalando una colonnina di fumo proveniente da alcune cataste di legna mucchiate dopo le varie mareggiate. Considerata poi la prossimità della spiaggia al parco San Bartolo, sono stati allertati i vigili del fuoco. Tempestivo l'intervento delle squadre dei pompieri che hanno operato non solo con i propri mezzi, ma anche con la motopompa barallabile e le attrezzature antincendio presenti a bordo del motopontone Magnum, unità mercantile chiamata di intervenire dall'autorità marittima. Sono così riusciti a spegnere le fiamme evitando il pericolo di aggressione della falesia e della flora del retrostante parco San Bartolo. Grazie 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 Grazie